Buongiorno a tutti gli ebrei buoni, salam aleikum a tutti i musulmani buoni, good morning a tutti gli inglesi e gli anglofoni buoni. Allora buongiorno, buongiorno a tutti, ciao, 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 natura. Ma come stai Giovanni? A quanti follower sei tesoro? A quanto ti manca? A quanto ti manca? A quanto ti manca di follower? Oggi parliamo di una cosa, buongiorno, buongiorno Elena, buongiorno, buongiorno. Allora oggi vi parlo di una cosa che è frutto dell'unione, dell'esperienza di tutti voi, vi ringrazio tutti. Bene, dai, mi fate un favore, mi seguite Giovanni, Giovanni Rocca Salva, me lo seguite così sale nei follower e ci può raccontare dell'agricoltura, sapete che io amo l'agricoltura, sostengo l'agricoltura, essendo una, diciamo, persona che vive in armonia con la natura. Buongiorno, 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 buongiorno. Oggi parleremo di risveglio spirituale, che sembra una cosa tanto, tanto, diciamo, mistica, ma è una cosa energetica a livello del mondo. Allora, vi prendo anche le fonti perché non voglio dire ah, l'ho preso di qui, l'ho preso di là. Sono articoli, tra l'altro, sono articoli, tra l'altro, precedenti a tutta questa pandemia, tutta questa guerra, quindi non potete dire che siano stati fatti ad hoc, giusto? Quanto risveglio ti serve? Ma allora, più che risveglio ti serve la grazia, la grazia di Dio, degli dèi, qualsiasi sia la tua... Buongiorno, buongiorno. C'è più che un bisogno, c'è bisogno della grazia di Dio, degli dèi che ci risvegli, perché noi possiamo pregare fino a domani mattina, ma se non ci viene regalata, è vero che possiamo metterci in ascolto, ma deve essere comunque una grazia, ok? Ma guarda che nessuno ti obbliga a stare qua, per me puoi andare dove ci sono i tuoi padroni. Andate dai vostri padroni che vi vogliono ciechi, invece di venire qua nelle live delle persone buone e spirituali, andate a servire i vostri padroni che vi vogliono ciechi, sordi e muti, e infatti vi vogliono così bene che vi vogliono tappare la bocca e rendere schiavi, ma voi non lo potete capire, o meglio lo capirete quando vi arriverà la grazia divina. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno Franco, ciao tesoro. Allora poi sto studiando, però non sono ancora diciamo preparata, sto studiando l'impero del Mali, che parla di tutta la storia e vi ricordo che l'uomo più ricco del mondo non è Jeff Bezos, ma è stato questo signore che governava il Mali. Bene bene, tu come stai? Allora parliamo di una cosa anche importante, vediamo se vi ritrovate, facciamo un esperimento, vediamo se voi vi ritrovate in questi sintomi, non li sto dicendo io, io l'ho trovato su questo sito che si chiama Spazio Azzurro e dice i sintomi del risveglio spirituale, i sintomi. Vediamo insieme se ce li abbiamo questi sintomi, vediamo. Allora risveglio spirituali, 23 principali indizi e sintomi. Vediamo se ci stiamo risvegliando. Sì, cosa stai dicendo in magliano? Lui dice co, bi, ciocodi. Cosa stai dicendo in magliano? Ce lo traduci per noi? Allora, questo risveglio spirituale è come se fossi nato già dagli anni 70, 60, 70. Avete presente che c'erano i figli dei fiori, c'era questo diciamo disobbedienza, andare in guerra in Vietnam, c'era il rifiuto per tutta la violenza. È lì che è nato. Buongiorno, buongiorno, buongiorno Massi, come stai oggi? Come si sta? Come si sta a vivere davanti al mare? È bello, ecco, questo il mare è un'altra delle energie belle. Perché ieri un signore, un signor Adam, perché dico, mi ha mandato un video molto interessante sulle ninfe, no? E raccontava come erano queste ninfe. Senti un po', senti un po', Massi. Diceva che erano biondo-rosse, con la pelle chiara e amavano l'acqua sia dei fiumi che dei mari. Ma dai! Grazie, grazie Franco. Franco dice che ha scritto come va. Avete capito? Queste ninfe che erano con i capelli biondo-rosso, con la pelle chiara e poi il mio nome è il nome di una ninfa. Lo sapete che il mio nome è il nome di una ninfa gallese? Buongiorno, buongiorno, buongiorno tesoro, buongiorno Lisa. Seguite Lisa che è tanto brava, seguite Giovanni, seguite Franco, siete tutti meravigliosi. Allora Lisa, stavo raccontando che un signore ieri mi ha mandato queste cose di una... Ciao, ciao, ciao Solimano! Allora, ami, sei favoloso, grazie, grazie a tutti, buongiorno, ciao cari, siete tutti meravigliosi. Perché ieri non sono stata tanto bene e voi del male siete stati proprio favolosi, grazie, siete magici e buoni e bravi. Ma anche tutti voi siete italiani, stranieri, siete tutti bravi e buoni. Allora, questa cosa delle ninfe dicevano che erano bionde con i capelli, bionde rosse, con la pelle chiara. È il mio nome, Sabrina, è il nome di una ninfa gallese. questa, non inglese, gallese. E questa ninfa era la ninfa, la protettrice del fiume Severn, ok? Sabrina, Savrin, Hevrin. Allora, io volevo dirvi... Proviamo... Ciao, 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 Milcare, ciao, cari. Allora, vediamo insieme... Sì, 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 sì. Allora, possiamo... Che bello, è vero? Allora, vediamo insieme se abbiamo i sintomi... Vediamo, Marina, se abbiamo i sintomi del risveglio spirituale. Ci proviamo? Allora, intanto proviamo a leggere senza occhiali che me li sono dimenticati. Allora... Allora, il risveglio spirituale, però, c'è un sintomo che prima... Che uno pensa che stai attraversando un momento brutto brutto, perché sei triste, sei un po' così e pensi che è brutto. In realtà è bello, perché questo risveglio è preparatorio, diciamo così, a un momento dove ti si apre tutto. Prima vedi tutto buio, poi di improvviso hai tutto chiaro nella mente e si chiama risveglio spirituale. Ma non è solo una cosa... Io non parlo di cose fantascientifiche, parlo di cose serie, perché sai, Marina, che ho scoperto che degli scienziati russi, ma non adesso, quindi non è un articolo di adesso, un articolo del 2005, che gli scienziati russi hanno scoperto che il DNA sta cambiando, ma anche a livello... Le nostre cellule, a livello anche gli atomi, stanno cambiando. L'energia dell'universo sta cambiando, e adesso ve lo dimostro. È un articolo megagalattico e lungo, però vediamo se i sintomi sono uguali per tutti. Da, va avanti questo... Allora, intanto c'è la notte oscura dell'anima, che precede il risveglio spirituale. Quando tu ti senti incompreso, quando dici, ma che c'è sto a fare qua, ma in che mondo sono capitato, ma questo è un mondo di pazzi, questo è un sintomo del risveglio spirituale. Allora, quindi prima di vedere la luce, cioè il risveglio spirituale, dobbiamo camminare attraverso la valle dell'ombra della morte, per preparare le nostre menti e i nostri cuori all'aggiornamento cosciente. Quindi, per costruire, come vi ho detto tutti che volete andare a votare, andare a votare potete votare, ma non servirà niente. Per votare dobbiamo fare pulizia e costruire sul nuovo, se no non sarà un vero cambiamento. Poi non mi credete, fate come volete, ma io sono convinta di aver ragione. Poi vedremo. Allora, sintomi della notte oscura. Ok, vediamo se ce li ho. Io ce li ho tutti, ce li ho avuti tutti. Ti senti isolato da tutto, gli altri, te stesso, la vita in generale, cioè ti senti proprio isolato. Hai la sensazione di essere stato abbandonato da Dio o da tutto quello che è divino? Quello no, perché io ho sempre avuto una fede forte. Il tuo umore, vediamo se anche voi avete questi sintomi. Il tuo umore è quasi sempre a terra e malinconico. Grazie tesoro. Dai, aspetta, aspetta, perché poi arriva anche il bello, no? Dice, il tuo umore è quasi sempre a terra e malinconico. Ti sei perso e non sai quale direzione è quella giusta da prendere. Ok? Senti il disperato, senti disperazione e orrore quando osservi il mondo. Cioè il mondo ti fa schifo, sei disperato. Dici, ma in che mondo sono? Avverti un senso di paura esistenziale. Cioè dici, mamma mia, senti una profonda stanchezza emotiva. Non è una stanchezza fisica, è proprio una stanchezza mentale, emotiva. Che stufa, non ne posso più. È vero, no, no, ma io questo inverno, quando questi hanno iniziato questa operazione speciale o vai inna, come la volete chiamare. Ma io ho detto, ma questi sono, io sono stufa, eh. Ma io non appartengo a questa razza di umani. Questi sono subumani, eh. Ma va a fare un brodo. Siete subumani, non voglio, guarda. Poi, andiamo avanti. Avverti un senso di paura esistenziale. Senti una profonda stanchezza emotiva. Ti manca la motivazione per continuare a fare quello che facevi prima. Ti manca. Ma no, ma infatti stiamo qua. Secondo me, Elisa, non è un incontro casuale nostro. Io credo a questi incontri energetici e karmici. Adesso vi spiego perché non dobbiamo pensare male, non dobbiamo, bravissime, non dobbiamo pensare cose brutte, non dobbiamo immaginare cose brutte, non dobbiamo essere disperati perché l'energia crea. Non sto scherzando, non lo dico da maga maghella, io ho un mio cliente che è un neurologo, sapete cos'è un neurologo, un medico neurologo laureato in Italia. E io gli ho parlato un po' delle mie sensazioni, no? E lui dice, io non in prima persona perché sono un neurochirurgo, quindi opera il cervello. Però dice, c'è un mio collega, è vero, anche per me è un onore e una fortuna avervi conosciuti tutti, perché tutti siete stupendi e siete utili. Per quello non voglio un non uno di meno e siamo tutti parte di un ingranaggio. Io non sono speciale, siamo tutti speciali, capito? Dobbiamo capire che siamo tutti speciali. Allora, andiamo avanti con questa lettura. Non uno di meno, capito? Io non voglio un essere umano di meno su questa terra. E chi vuole la guerra, chi vuole gli omicidi, va contro tutte le regole universali. L'universo è amore, è fratellanza, è vita, la morte è l'altro. Ok? Guerra e morte sono dell'altro. Allora, andiamo. Ti manca la motivazione per continuare a fare quello che facevi prima. Hai perso l'interesse per la maggior parte delle cose. Continui a riflettere sulle domande profonde della vita, ad esempio, qual è lo scopo della vita? Che cavolo ci facciamo qua? Ti senti come se non appartenessi a questo mondo. Quello da sempre. Io da sempre. Posso fare un appello? Sentite, io lo so che 9.000 anni che mi avete lasciato qua. Potete venirmi a prendere. Io sono un po' stufa. È stato bello, ho imparato la lezione, ma voglio tornare a casa. Voglio tornare a casa? Non ce la faccio più. Voglio tornare a casa. Posso? Anche se questa sensazione è meno profonda. All'inizio era molto più forte. Adesso mi sto un po', come si può dire, abituando a questa terra. Poi, questi erano i sintomi. Questi erano i sintomi. Ma vedi, Lisa, tu di che segno sei, Lisa? Qual è la tua data di nascita? Perché io sono 22 gennaio 72. Quindi io sono un acquario proprio all'inizio, inizio, inizio, ascendente capricorno, quindi un medioceano in scorpione. Allora, questa è la cosa del buio, 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 buio. Guarda, Massimo, che anche tu sei molto spirituale, lo sai, lo sai che sei molto bilancio. E questo Giove in opposizione da metà maggio, che pesantuccio, ma ti fa veramente tagliare tanti rami secchi. Sai cosa ti fa tagliare anche cattive abitudini, amicizie che non servono a niente, è vero? Ma che bella data, guardate che bella data che c'ha. 30, 09, 69, ma è bella la tua data, eh. Fammi vedere, allora, 3. 4, 1, 6, 1, 1, che bello, sei che terza, è la corona. Tu sei anche una donna, secondo me, che dirigi tutto tu, gestisci la famiglia, tutto sulle tue spalle. È un peso enorme il tuo, eh, Elisa? È un peso molto, molto... Ciao, 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 questo, sì, sì, sei una grande. Ma guardate che i grandi non sono mica quelle, eh, quelle non sono grandi, sai cosa sono? Pazzi isteriche, sono pazze violente. Quelle invece che nel silenzio, nella tranquillità vanno avanti, mandano avanti la famiglia. Quelle, nelle piccole cose. La vita non è fare grandi cose, è fare tutti i giorni delle piccole cose che però servono a mandare avanti la famiglia, mandare avanti gli altri, perché tu sei una molto generosa e pensi agli altri. O sbaglio. Anche tu, eh, Massimo, sei di quella... Di quel DNA lì, eh? Anche tu sei di quelli che pensano, ma infatti siete due segni. Pensa che Elisa e Massimo siete due segni, uno è Toro, l'altro è bilancio, ma tutti e due legati a Venere, eh? Il pianeta dell'amore, dell'amicizia. Allora, invece, andiamo a vedere le sette fasi... Sì, non mi chiudo. Le sette... Allora, se qui era la notte, se qui c'è la notte, vediamo se sta arrivando sto risveglio, no? Vediamo, vediamo, vediamo. Sette fasi del risveglio spirituale. Il processo di risveglio spirituale è complesso, ha più livelli. Guardate che non è solo descritto nelle meditazioni yoga. Il risveglio e anche il percorso spirituale, vi faccio un esempio, se siete cristiani potete leggerlo nel castello interiore di Santa Teresa d'Avila. Potete... Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Potete leggerlo anche in Giovanni della Croce, potete leggerlo in Santa Teresina di Lisieux, no? Lei la chiamava, io adoravo, anche se non sono cristiana, ma adoravo, prima lo ero, adoravo la sua via delle piccole cose. Ecco, io seguo la via di Santa Teresina di Lisieux e delle piccole cose. E lei è la protettrice delle missioni. Ma anche il sufismo, il sufismo e questi viaggi interiori, può essere con il canto, con la poesia, con la meditazione, col ballo. Avete presente questi signori che ballano in cerchio, in cerchio, in cerchio, in cerchio, sai che girano su se stessi? C'è questa ricerca spirituale. Ciao Stefano, come stai caro? Allora, sette fasi del risveglio spirituale. Il processo di risveglio spirituale è complesso, ha più livelli, è diverso per ognuno, cioè ognuno di noi ha il suo risveglio. In realtà non può essere inserito in categorie precise, perché tu hai il tuo, io il mio, no? Tuttavia, detto questo, è utile avere una sorta di mappa per localizzare dove ti trovi in questo momento. Vediamo dove ci troviamo, eh, se ci siamo persi. Le fasi seguenti sono generali, definiscono il flusso complesso del processo di risveglio spirituale. Prima fase, quindi non vi spaventate, eh, non vi spaventate perché prima arrivano i momenti brutti, poi arriva il bello. Prima fase, infelicità, sconforto e sensazione di smarrimento. Seconda fase, cambiamento delle prospettive. Inizia a percepire la realtà in modo diverso, completamente diverso. In questa fase inizia a vedere attraverso le bugie e le delusioni propagate dalla società. Cavolo, questo è pazzesco! Noi dobbiamo vivere, bravi, leggo cosa dice Massimo, noi dobbiamo vivere con ottimismo, lo so che non è facile, ma l'unica cosa che ci fa stare bene. Sì, ma poi spetta Massimo, non è solo l'unica cosa che ci fa stare bene, l'unica cosa che crea energia positiva. Non lo dico io, eh, questa è fisica e matematica quantistica. Se voi create e generate pensieri negativi, li materializzate. Se voi pensate e generate pensieri positivi, il mondo creerà cose positive. Poi vi volevo leggere questa cosa, però è veramente lunghissima, sul discorso delle bolle energetiche che si creano, queste cose. Mi raccomando, mantenete sempre un approccio, un pensiero positivo. L'energia di questo mondo deve essere positiva. Creare pensieri negativi vuol dire dare spazio al male. La vera lotta non sarà con i fucili, ma sarà con le menti. Se tutti voi apriste la mente, open your mind, e capiste l'importanza della vostra energia mentale, perché molti di voi non ci credono, però a volte noi materializziamo i pensieri. Voi non dovete smettere di credere che andrà tutto bene, non dovete smettere di credere che questo mondo così com'è cambierà, e soprattutto che le bugie verranno a galla. Leggo cosa dicevo, ho letto anni fa il libro Il Segreto. Certo, The Secret, bravissima, bravissima. Ma adesso c'è ancora di più della roba bomba, 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 che arriva dalla Russia. Ma non di oggi, è un articolo del 2015, quindi non mi rompete le palle. Scritto in italiano, quindi è roba seria. Si parla di neuroscienza. Allora, quindi, fase 2, cambiamento delle prospettive. Inizia a percepire la realtà in un modo completamente diverso. In questa fase inizia a vedere attraverso le bugie e le delusioni propagate dalla società. Meraviglioso, giusto? Ti senti infelice, disturbato dalla sofferenza che vedi e senza speranza per i mali del mondo. Non vedi più la vita come quando ti trovavi nel tuo precedente stato di compiacimento inconsapevole. Perché la consapevolezza è dolorosa, eh? Cioè, quelli che sono tutti, vivono da scemi. Cioè, a volte uno dice, più sei ignorante, più sei felice. Ma io non voglio essere ignorante. Io voglio essere, comunque, avere il dono della conoscenza. Io ho un Dio nella mia religione, che è Odino, che dà la knowledge, la conoscenza. Io voglio la conoscenza, non voglio rimanere ignorante. Fase 3. Vediamo se vi ritrovate. Fase 3. Ricerca di risposte e significato. Io sono qua perché sto cercando risposte. Io non ho la verità in tasca. Questa live è un dialogo con voi, una ricerca insieme. Magari io dico la mia, poi Lisa dice la sua, Massimo dice la sua, Adam dice la sua. Cioè, ognuno mette in comune queste esperienze del momento che sta vivendo. E magari può aiutare l'altro. Ma guardate, non perché è laureato o perché magari in una fase spirituale elevata. Magari quello nella prima fase può dare una mano a quello più... Certo, certo, leggo cosa dice Lisa. È vero, triste con la coscienza. Sì, aspetta perché non è finito. Ci sono altre fasi, fortunatamente. Allora, ricerca di risposte. Fase 3. Ricerca di risposte e significato. Ci deve essere un approdo a tutto questo. Giusto? Cioè, ci deve essere una spiegazione a tutto questo. In questa fase stai facendo tutte le domande profonde. Sei alla ricerca dello scopo della tua vita, del destino spirituale e del significato della vita stessa. Inizia a dilettarti in diversi campi metafisici. Può essere meditazione, può essere preghiera, può essere anche lettura, qualsiasi... Può essere anche camminare nei boschi. Perché stare in contatto con la natura è un'esperienza molto spirituale, ok? Scusate Luc Barbone perché sono un po' così oggi. Allora, sei alla ricerca dello scopo della vita, del destino spirituale e del significato della vita stessa. Inizia a dilettarti in diversi campi metafisici, di autoaiuto ed esoterici alla ricerca di risposte verità. Fase 4. Trovare risposte e sperimentare scoperte. Che bello, magari che uno dica... Magari Lisa dice, io ho letto questo, a me ha fatto bene. E poi arriva Giovanni e dice, io ho letto questo, ho fatto altre cose. Poi arriva Stefano e dice, ma a me fa più bene un'altra cosa. E ognuno c'è anche chi usa il ballo, chi usa magari qualsiasi, ripeto, tipo di esperienza spirituale, di qualsiasi religione. Perché qui non stiamo facendo del razzismo religioso. Perché vi ricordo, qualsiasi religione, purché sia aperta a non disturbare gli altri, purché sia aperta a non offendere le altre, va bene. Perché non si offende gli altri. Io te l'ho fatta tutte le frasi, è stato devastante. Certo, bravissimo, guarda, leggete cosa dice Adam, bravissimo. Io gli ho fatte tutte le fasi del risveglio ed è stato devastante. Allora, noi qui le chiamiamo in questa maniera. Però, chi ha studiato alchimia? Qualcuno ha studiato alchimia, sapete cosa vuol dire alchimia? La chimica di Dio, alchimia, sufiso alchimia, come algebria, tutte queste cose qua. L'alchimia, che è la chimica di Dio, parla, qualcuno l'ha studiata, della fase di Negredo. Ringrazio un signore che si chiama Giorgio Leonardo, che è uno scrittore famosissimo che insegna all'università, che ho avuto l'onore di avere tra i miei amici di Facebook. Ma è stato tutto, io faccio sempre questi incontri strani. Ho messo un mi piace, ho condiviso un suo post. Poi lui mi ha chiesto l'amicizia, ho detto, e chi cavolo è questo? Poi ho detto, ma sei tu che gli hai condiviso il post? Perché ho detto, ma chi è questo? E invece era questo signore. E poi è iniziata questa amicizia, diciamo, epistolare, virtuale, e lui un giorno mi butta lì e fa, eh, sono nella mia fase di Negredo. Negredo, e che cavolo è? Allora poi io sono andata a cercare su internet. Poi ho detto, ma sei un po'... Buongiorno, buongiorno Sergio, come stai? Buongia, come stai oggi? Allora ho detto, ma cosa cerchi su internet se hai un bel librone a casa che si chiama Alchimia? Allora ho preso questo librone e ho visto che le fasi, come lui le definisce o come le definisce qua, sono anche descritte sull'alchimia, quindi sono fasi. È bello? Quello di Coelio? Non lo so, non l'ho letto. Io ho letto proprio il libro che si chiama Alchimia di edizioni moderne, mediterranea, non moderne, edizione mediterranea. È bello? Di cosa parla l'alchimista? Allora, il libro Alchimia è proprio un libro alchemico. Allora parla dell'anegredo, quindi il buio, il buio, buio, buio interiore, che devi proprio dove l'anima va nei punti più scuri, dell'albedo, dell'albedo. Ma io ho letto Alchimia, non l'alchimista, l'alchimia vera. L'alchimista so che è di Paolo Coelio, no? Non so di cosa parli. Eh, vedi che di Paolo è... Ma bellissimo, bravissimi. Allora, se parla di questo, può darsi che parli di questa cosa qua. Allora, c'è questo negredo dell'anima che va giù. Ciao, Nonna Piera, come stai oggi? Fate un bacio, fate un bacino. Tutti un bacio e un augurio a Nonna Piera che è stata operata. Tanti, tanti, tanti auguri, Nonna Piera. L'alchimia, l'alchimia, la chimica di Dio. Allora, finiamo il discorso. Allora, nei processi alchemici c'è la negredo, l'albedo e la rubedo. Perché molti si dimenticano dell'ultima fase. Noi, interiormente, siamo maschi o femmine. Ma lascia perdere il discorso genere. Parlo della nostra anima che è più portata verso il lato maschio e il lato femminile. All'inizio. Buongiorno a tutti voi. Grazie, Contracambio, con tutto il cuore. Grazie, Nonna Piera, sei speciale. Allora, quindi arrivo al negredo, all'albedo, quindi alla rinascita, uscire fuori da questa cosa. Ma non basta. Perché l'albedo è come una fase di purificazione. Ma io non devo essere un essere angelico e neutro, perché devo vivere nella società. E quindi mi devo rapportare non solo al lato femminile, ma al lato anche del, diciamo, non puro, ma anche del rubedo, di questa cosa, di amore anche. Perché, perché rubedo io lo vedo più come l'amore, l'amore verso se stessi, l'amore verso gli altri e di imparare ad amare. Ecco perché molti di noi, di voi, hanno veramente dei grandi problemi nelle relazioni sentimentali. Perché è tutto collegato. Tu dici, ma cosa c'entra il discorso del risveglio spirituale con le relazioni? Noi siamo in un mondo. A volte dici, ma non ne trovo uno, non riesco a trovare una relazione, non riesco a trovare un uomo giusto, non riesco a trovare una donna giusta. No? Perché noi per primi non abbiamo trovato quell'equilibrio dentro di noi. Quindi siamo nella notte, andiamo nell'albedo, quindi negredo albedo, ma non passiamo in rubedo. E continuiamo questo eterno ciclo di negredo albedo, negredo albedo, negredo albedo. Ma non vado di là. Devi andare di là. Devi fare quel salto. E quel salto è il salto di maturità. La maturità che si passa dal io al noi. La vera maturità spirituale, sentimentale è il noi. Cioè immaginare un noi, non come un individuo, ma come una società collettiva. Allora se noi passiamo da un io al noi, è lì che iniziamo a creare, a costruire, a fare. Grazie. Come sta il nonno oggi? Come sta il nonno? Ho detto male, Sergio, ma no, non spendere soldi. Io sai che non lo faccio persone che mi interessano. Ma immaginate che meraviglia che noi, come passiamo al noi? Attraverso l'io. Perché a cento per cento ve lo giuro, quando voi non riuscite a portare avanti una relazione, è perché non avete instaurato un rapporto d'amore con voi stessi. Voi pensate che volervi bene sia truccarvi, pettinarvi, la scarpa, la moto, questo e quell'altro. Amarvi e dire no. Imparare a dire del no. Sta bene? Sì. Imparare a dire dei no. Manda un bacino a nonno, eh. Imparare a dire dei no. Imparare non è il meglio per me. Imparare anche a vivere con meno, ma più felici. Imparare a trovare del tempo per se stessi. Imparare a prendersi cura di se stessi. E come immaginatevi nella nostra vita che noi dobbiamo andare a salvare una persona in mare. Come si fa a salvare? Chi ha fatto salvamento? Se io devo salvare una persona in mare, non posso buttarmi in acqua così. Mi metto prima il salvagente e poi mi butto. Perché se prima non ho messo in salvo me stesso, non potrò salvare nessuno. E finché secondo me non siete in grado di salvare voi stessi, non è che non dico che... Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Non ho detto che non dovete avere delle relazioni, perché siamo esseri umani, si può... Però, parlate chiaro e dire, guarda, io ho la consapevolezza di non avere ancora un equilibrio emotivo e sentimentale, quindi non ti prometto niente, ma ti prometto che ci sto lavorando. Ma almeno non create aspettative e soprattutto non vi create aspettative. Perché il guaio di tutte queste cose è quando noi cerchiamo le cose negli altri. Ma non le possiamo cercare negli altri se non le possediamo noi. Capito? Io parlo proprio di amore non inteso, quello non è amore, quello è sesso. Parlo di cose spirituali. Ah, quindi abbiamo detto, fase 4, trovare risposte e sperimentare scoperte. Dopo molte ricerche interiore troverai alcuni insegnanti, perché secondo me la vita ci mette davanti... È vero che la vita ci mette davanti gli insegnanti e vi ricordo che gli insegnanti non sono sempre gente adulta e anziana. A me ha insegnato le cose un ragazzo di 16 anni, perché magari lui a 16 anni ha un livello spirituale più di una persona di 80 anni. Quindi smettiamo con questi pregiudizi. O magari ti può insegnare una persona che non ha tanta cultura, non scolastica, ma ha tanta cultura umana. Smettetela di avere pregiudizi. Il pregiudizio... Ciao, ciao, ciao cara! Il pregiudizio è la rovina di tutto. Il pregiudizio, la divisione, l'odio, è la rovina di tutti. Come stai? Come stai, Evelina? Tu, Evelina, sei molto spirituale, lo so. Lo so, lo so. Evelina che mi ha detto, no, ti devi fare un altro giro. Io ho detto, no, voglio andare a casa. È vero, ti ricordi, Evelina, in un post che mi hai detto, ma no, facciamo un altro giro. No, io voglio andare a casa, non faccio più altri giri. Io lo dico, basta, non faccio più giri. Per chi credesse alla reincarnazione, fare i giri vuol dire reincarnarsi. Io non c'ho più voglia. Io voglio andare a casa, Evelina, voglio andare a casa. Allora, quindi, fase 4. Trovare risposte, sperimentare scoperte. Dopo molte ricerche interiori, troverai alcuni insegnanti, pratiche o discipline spirituali, che alleviano la tua sofferenza esistenziale. Attenzione, in questa fase possono verificarsi molti falsi miglioramenti, falsi miglioramenti. Gli schemi si dissolvono e il tuo vero sé, anima, inizia ad emergere. Potresti avere una serie di esperienze mistiche o brevi momenti di consapevolezza che ti danno uno sguardo alla natura ultima della realtà. Questo è un momento di gioia, speranza, connessione, stupore. Ma può essere che fai un passo avanti e dieci indietro. Ma bravissimo il caos. Leggo cosa dice Faith. Allora dice, infatti si dice che amore è ordine, l'odio è disordine. Bravissimo. Allora io vi consiglio anche di mettere ordine, per aiutare l'ordine interiore, non sto scherzando. Io da giovane ero una casinista, buttavo tutto per aria, arrivavo a casa, lanciavo i vestiti. C'era un mio amico che diceva c'è una selva di tacchi. Non sto scherzando, c'era tacchi dappertutto, un casino, un disordine. E poi facevo un valigione e lo portavo in lavanderia. Ma in effetti quel disordine lì era anche sinonimo di un disordine interiore. Non ho detto diventare maniacali, perché bisogna anche vivere con distacco. Ma se voi avete comunque una camera da letto disordinata, il letto da rifare, voi dici non riesco a dormire. Ma tu hai rifatto il letto, le lenzuola sono pulite, il pigiamino è pulito, hai fatto la doccetta, hai pulito la camera, date una bella scopata sotto il letto, la polvere, le cose. Quando entri in camera da letto c'è un buon profumo. Quando entri in casa c'è un buon profumo? Cioè anche se la casa non è lussuosa, anche se non è grandissima, ma se tu crei questo ambiente coccola, cioè la tua casa la rendi accogliente. Io ad esempio amo l'incenso, magari con dei colori che mettono pace, a me piace molto il bianco, il grigio, il rosa, delle cose. Io non potrei mai dormire sulle lenzuola colorate, mi vengono gli incubi. Io dormo sul bianco, ma proprio una cosa mia. Ma, o i fiorati, uff. Ma, ripeto, qualsiasi cosa vi piaccia, create un ambiente armonico e ordinato. Se la vostra vita, se la vostra casa, se la vostra macchina è pulita e ordinata, anche voi sarete in ordine. È un fatto proprio mentale. Che poi vi abituate e non siete più nel caos. Però io vi dico che il dio del caos è quell'altro, eh. Fate attenzione. Perché proprio questa persona che aveva 16 anni, mi ha insegnato che il male entra per 613 parti. 613 parti entra il male. Magari da una parte impensabile. Impensabile, inimmaginabile. Quindi, il continuo contatto con la nostra parte divina, con la nostra parte animica, non vuol dire andare in chiesa, eh. C'è gente che va in chiesa e poi è uno zuzzone. Buongiorno, buongiorno. Uh, good morning. Good morning Scotland. Welcome. How are you? How are you? Seguite questa signora che è meravigliosa, che è Marie, è della Scozia. Noi amiamo la Scozia. I love the Scotland and I love Scottish people. Ok? Amici della Scozia, grande, grande. Ma poi anche da voi c'è una grande spiritualità, eh. Grazie, grazie. Seguitemi, Marie. Allora, fase 5, perché, ripeto, non è che arrivo e sono felice, sono arrivata. No, a volte c'è proprio il trauma. Fase 5, disillusione e sentirsi di nuovo persi durante il risveglio spirituale. Dici, ma stavo tanto bene, avevo trovato la mia via e di nuovo mi sto perdendo. la vita, cioè, questo momento qui, è normalissimo, perché è fatto di... Hai fatto? Sì, sì, sì. Questo momento è fatto di... Grazie, amore, siete dolcissimi. Perché avete visto che è bello connettersi al mondo? Io, ad esempio, nella Kabbalah, nell'albero della vita, sono Tiferet. Allora, Tiferet è il centro e che mette tutti in connessione. E il mio sogno, diciamo, il mio mondo ideale è che tutto il mondo sia in pace e io lo sto immaginando, questo mondo. Sapete come lo sto immaginando, il mio mondo? Bello, in pace, dove tutti si vogliono bene, dove tutti si scambiano informazioni utili, dove tutti si rispettano, dove tutti lavorano per la pace e dove tutti hanno da mangiare, dove tutti si possono curare e dove tutti possono andare a scuola, imparare. E il mio sogno, proprio anche, buongiorno, 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 che i bambini diventano i bambini di tutti. È ovvio che il bambino c'è papà, mamma, quello che volete, ma che tutti ne siamo responsabili e ci prendiamo cura, li proteggiamo e abbiamo un occhio di riguardo per queste nuove generazioni che stanno arrivando e che poi saranno quelli che sosterranno il mondo. Quindi, se vediamo qualcuno che maltratta un bambino o che non è educativo, dici, no, stai sbagliando, non devi fare questa roba qua. Non si fa, è una cosa brutta. Capito? Un bambino che non mangia, un bambino che non studia, i bambini in Iraq che mangiano dal pavimento sono i figli di tutti. Mi sono spiegata. Fregarsene è una cosa uscena, perché quel bambino lì può essere quello che fra 20 anni, 30 anni, se si laurea, ti può salvare la vita in un ospedale. Cercate di, è Schwab te che vuoi ridurre la popolazione, ma inizia a toglierti tu dai piedi e inizia a capire che ogni ingranaggio deve servire. Non possiamo fare a meno di un bambino in meno, non possiamo fare a meno di un uomo in meno. Possiamo fare a meno di te, che non servi a niente, tranne a mettere discordia, caos e distruzione. Anch'io sono d'accordo di una società collettiva, paritaria e matriarcale, ma non sono d'accordo nel ridurre il numero delle persone, dei privilegi di questa gente, perché è nata ricca, perché fanno i banchieri, perché possono decidere la vita e la morte di persone in Africa, in India, dovunque. Capito? Voi non siete nessuno e non avete il diritto di vita e di morte su nessuno. Questo è un diritto divino. Intanto di amore non vuole il nostro male. Andiamo avanti. Quindi dopo questo pseudo risveglio, poi c'è di nuovo il blackout. Poi andiamo alla fase 6. La fase 6 è una fase molto profonda. Guardate che io non mi sto inventando niente, l'ho trovato da questo sito che si chiama spazioazzurro.net, così potete andare a cercarvelo anche voi. allora fase 6 lavoro interiore più profondo. Qui iniziamo a approfondire tutte le cose. In questa fase non sei più interessato a dilettarti con filosofie spirituali, da salotto o pratiche superficiali. Il dolore costante che senti dentro ti motiva a fare un lavoro interiore profondo. Potresti diventare uno studente serio di meditazione, consapevolezza, alchimia, lavoro sul bambino interiore perché noi dobbiamo parlare con quel bambino perché se è ancora sofferente, se è ancora pieno di odio e di rancore dobbiamo fare in modo che questo rancore esca, questa rabbia esca, questo dolore esca, se no il bambino non potrà mai crescere e diventare un adulto. quindi lavoro sul bambino interiore, lavoro sulle ombre, sui nostri lati oscuri, accettarli, migliorarli, cambiarli, lavoro sul corpo o varie altre discipline transpersonali. Lavoro sul corpo, ovvio che io se non sono Marilyn Monroe rimango brutta, ma posso lavorare sulla cura del corpo, il cibo sano, non farmi del male, dormire bene, mangiare bene, ok? Va bene? L'ultima fase, la fase 7, integrazione, espansione e gioia. L'integrazione significa prendere le lezioni spirituali che hai imparato dal tuo lavoro interiore e applicarle alla tua vita quotidiana, perché è inutile noi che andiamo a fare yoga, meditazione, andiamo in chiesa e poi questa nostra esperienza religiosa non la mettiamo nella vita quotidiana. Capito? Come diceva Gesù, la fede senza le opere è morta. È così. L'integrazione avviene sia naturalmente che consapevolmente come un'abitudine nella pratica spirituale profonda. In questa fase sperimenterai i cambiamenti più profondi e duraturi. Molte persone sperimentano esperienze mistiche e prolungate periodi di unità con il divino nella fase di integrazione. Ricorda, l'illuminazione o piena realizzazione di sé non è mai garantita, cioè tu puoi arrivare a questa fase e poi puoi tornare indietro. Ecco perché è importante frequentare ambienti sani e persone sane, perché appena tu proverai a evolvere ci saranno persone che ti vogliono tirare indietro. ma va, sono tutte cavolate, sono tutte cazzate, ma lascia perdere, ma che sarà. Perché hanno paura che voi andate avanti, hanno paura che voi vi staccate dal gruppo delle pecore. Ma se lo fate, se rimanete tra le pecore, allora non vi lamentate che siete pecore. perché essere evoluti vuol dire anche rischiare di rimanere da soli, vuol dire rischiare. Vedo delle persone che dicono ma se poi faccio così succede con la... e hai paura? Hai paura del cambiamento? Cosa può succedere peggio di quello che ti è successo? Eh, ma se non vado a votare torna a Draghi, ma chi te l'ha detto? Sono cazzate. Se tu non vai a votare non legittimi questa gentaglia e gli fai capire che non sarà qualcun altro a decidere per noi. Se nessuno va a votare cosa fanno? Ci mettono Draghi? Ma che siete scemi? Ma che dove l'avete visto sto film? Se nessuno va a votare capiscono che noi non stiamo più alle loro regole. Sveglia, sveglia. Comunque, quindi, dando avanti, ricorda l'illuminazione o piena realizzazione di sé non è mai garantita. Possiamo lottare per questo, ma alla fine è un dono della vita. C'è questo, vi faccio un esempio, no? C'è un esempio meraviglioso di qualcuno ha mai letto come si chiama? Porca miseria! Di Salomone. Salomone in gioventù era dotato e gli era stato dato questo dono di grande sapienza. Era illuminato, sapeva tutto. Poi, nella vecchiaia, si era incoglionito e addirittura ha abbandonato Dio ed è diventato pagano. Questo per farvi capire che magari noi pensiamo di aver raggiunto un percorso, poi in qualsiasi momento possiamo tornare indietro. quindi il contatto costante e la vita diciamo disciplinata aiuta a non perdersi perché qui è una lotta, la lotta tra il bene e il male esiste e perdersi è un attimo. Sapete qual è il modo peggiore per perdersi? è la disperazione. Quando siete disperati è la maniera peggiore. Poi, un'altra cosa che vi volevo parlare del risveglio del DNA. Queste sono teorie, prendete con le pinze, io anni fa, perché ero in quella fase di cerco tutto, sperimento tutto, conobbi delle persone e feci questo risveglio del DNA. All'inizio non l'avevo capito molto perché come vi ho detto si va avanti si va indietro si va avanti si va indietro figurate che io ho fulminato tutto. Ho fulminato tutte le attrezzature i computer, la macchina. Io ho detto ma che succede? Ero un po' disperata. Adesso ho capito perché forse dovevo staccarmi da tutte le cose materiali. Però, secondo alcune teorie ma non lo dico io, sono un po' di tutte le religioni, parlano che tipo verso il 4000 avanti Cristo mangia una mora che è tanto buona. 4000 avanti Cristo noi avevamo 12 filamenti del DNA e qualcuno ci ha soppito, ci ha spento 10 filamenti e sono rimasti solo due attivi. Però, su questo DNA non lo dico io, lo dico gli scienziati russi un articolo del 2005 e vi dico anche dove l'ho preso parla proprio di questo. Il nostro DNA è un oscillatore fotonico parla più semplice perché se no non capiscono dai una usa una cosa diciamo semplice che capiscono tutto. Allora, io vi dico dove ho preso questo articolo che si chiama crescitaspirituale.it e parla degli studi appunto in Russia di questa cosa che nel nostro DNA ci sono scritti delle informazioni che qualcuno definisce DNA spazzatura ma non è DNA spazzatura. Ma voi credete veramente che l'essere umano sia un caso? Credete veramente che una macchina così complessa come il corpo e la mente dell'essere umano siano state fatte a cavolo con dei pezzi spazzatura? Ma che film vi siete visti? Che film vi siete visti? No, perché qua bisogna credere alla scienza ufficiale che poi nel giro di 20-30 anni si rimangia tutto. Si rimangia tutto? Perché a credere alla scienza io vi dico che fino a pochi secoli fa si credeva nei salassi allora dovremmo tornare a fare i salassi? Ecco perché o si credeva che la Terra fosse piatta o si credeva che il Sole girava attorno alla Terra lo dicevano gli scienziati ufficiali potete negarlo? Allora potete negare il fatto che alcuni scienziati definiscono che c'è del DNA spazzatura? Mentre bravissimo grazie perché dobbiamo fare qualcosa che capiscono tutti allora faccio la traduzione di quello che ha detto prima il nostro DNA è un oscillatore fotonico la traduzione è il DNA è un'antenna vibrazionale di risonanze magnetiche bravissimo quali saranno quelli dei Romani? no quelli dell'agenzia delle entrate allora ma che buone ci sono già le more che buone allora una volta la medicina guariva le persone guariva le faceva morire facendo i salassi cioè prendeva le sanguisughe le metteva della roba assurda adesso è improponibile anche se sugli ematomi funziona ancora la sanguisuga perché succede via il sangue marcio ma questo per farvi capire che vedete che è in continua evoluzione questa cosa sì o no sì allora di conseguenza la medicina la scienza la matematica un esempio è Giordano Bruno Giordano Bruno aveva scritto un libro che si chiamava De Magie quello che ai tempi nel 1500 veniva definito magia adesso si chiama matematica fisica chimica ok questo per farvi capire che in base al periodo noi secondo me sappiamo un millesimo un milionesimo di quello che è il nostro DNA di quello che è la scienza di quello che è la fisica di quello che è la chimica e dobbiamo ancora studiarne tante 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 di cose però c'è una scienza ufficiale e una scienza ufficiosa no e poi c'è un'altra cosa e secondo me bisognerebbe fare che gli scienziati d'occidente si dovrebbero unire agli scienziati d'oriente perché perché io ho trovato questa informazione un articolo del 2015 quindi non precedente a tutto sto casino sto schifo dove dice ve l'ho preso da crescita spirituale punto it dice scoperte russe sul DNA ma non di maghe maghelle di scienziati dice riassunto di berbel modificato e tradotto maestri esoterici e spirituali sapevano da millenni che il nostro corpo è programmabile con linguaggio parole pensiero questo ora è uno stato provato scientificamente scientificamente è spiegato il DNA umano agisce come una versione biologica sono scienziati e non ciarlatani scienziati russi ma dato che amiamo negare e cancellare tutte le cose però allora il DNA umano agisce come una versione biologica di internet ma è superiore a quello artificiale in molti modi la ricerca più recente dei russi spiega direttamente o indirettamente i fenomeni come la chiaroveggenza quindi prima la gente diceva delle cose però i scienziati russi hanno detto andiamo a verificare se è vero ma guardate che anche degli scienziati tipo mi sembra all'università di come si chiama Pordenone c'è un un reparto di neuroscienza che spiega di queste cose avevo visto un'intervista però sembra che fanno un'intervista poi spariscono questi qua vabbè la ricerca più recente dei russi spiega direttamente o indirettamente i fenomeni come la chiaroveggenza intuizioni guarigioni spontanee e remote tecniche di affermazione sapete tipo quelli che fanno i corsi motivuzionali si bravo vai la PNL quella roba lì no però c'è tutto un discorso non parlo di magia parlo di energie mentali parlo di matematica di processi matematici mentali fisica fisica quantistica eh non ma gamariella allora quindi intuizioni guarigioni spontanee remote tecniche di affermazione aure e luci inusuali attorno alle persone una volta un signore mi ha detto sembra che sei tutta illuminata vabbè tecniche di affermazione aure e luci inusuali intorno alle persone maestri spirituali l'influenza della mente sui modelli temporali e molto altro in aggiunta ci sono evidenze per un intero nuovo tipo di medicina in cui il dna può essere influenzato e riprogrammato con parole frequenze senza tagliare o rimpiazzare i singoli geni le frequenze o le vibrazioni ok andatevele a leggere se non credete a me le sequenze di dna spazzatura sembrano linguaggio parlato l'articolo è lunghissimo l'articolo è lunghissimo importantissimo allora le sequenze di dna spazzatura sembrano linguaggio parlato solo il 10% del nostro dna è utilizzato per costruire proteine e questa è la parte del dna di cui si è stata esaminata e catalogata il restante 90% della molecola è considerata spazzatura è un po' assurdo che noi solo un 10% c'è tutta sta roba in eccesso ma i ricercatori russi invece sono convinti che la natura non sia così sciocca quindi la natura non è scema che crea una cosa e poi usiamo solo il 10% e l'altro 90% spazzatura perché nei secoli questa roba non è stata eliminata sapete con l'evoluzione dell'uomo vuol dire che non è spazzatura allora hanno allora i ricercatori russi invece sono convinti che la natura non sia così sciocca hanno unito linguisti e genetisti in un'avventura per esplorare questo 90% di DNA spazzatura i loro risultati scoperti e conclusioni sono semplicemente rivoluzionarie ciao 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 in base alla vi ricordo che questa live sarà scaricata poi la trovate per intero su youtube sul mio canale youtube con lo stesso nome e cognome in base alle loro scoperte il nostro DNA non è solo responsabile della costruzione del nostro corpo ma è un mezzo di immagazzinamento di dati e comunicazione grazie cara ma amore bacino 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 i linguisti russi hanno rilevato che il codice genetico specialmente nel 90% inutile segue le regole del nostro linguaggio umano hanno confrontato le regole di sintassi in modo in cui le parole sono messe assieme per formare frasi semantica studio del significato delle parole e le regole di base della grammatica hanno scoperto che gli alcalini nel nostro DNA seguono la normale grammatica tra virgolette vuol dire c'è un linguaggio e con le stesse regole del nostro linguaggio d'altronde il linguaggio umano non sono apparsi per coincidenza ma come riflesso dei modelli ereditari del nostro DNA il DNA può essere modificato da modelli sonori incluso il linguaggio parlato il biofisico e biologo molecolare russo Piotr Garjaev e i suoi colleghi hanno anche esplorato il comportamento vibrazionale del DNA io faccio molto le vibrazioni se vi interessa io adoro queste robe perché ci sono degli esercizi delle cose io ad esempio quando sto male certe vibrazioni le odio invece altre musica altre cose servono proprio e equilibrare queste cose allora vibrazioni lo abbiamo detto il comportamento vibrazionale del DNA in breve il concetto di fondo è stato i cromosomi vivi funzionano come un computer olografico usando radiazioni laser endogene nel DNA questo significa che hanno tentato ad esempio di modulare certi modelli di frequenza suono in un raggio tipo laser che ha influenzato la frequenza del DNA e questo ha modificato da solo l'informazione genetica quindi anche errori genetici premesso che la struttura base del DNA e il linguaggio come suddetto sono simili non è necessaria alcuna decodifica del DNA che fortesi russi si possono usare semplicemente parole e frasi del linguaggio umano questo è stato provato scientificamente da scienziati la sostanza viva del DNA nel tessuto vivo non in vitro quindi non in vitro reagisce ai raggi laser modulati del linguaggio anche con le onde radio se l'appropriata frequenza suono viene usata questo spiega scientificamente perché affermazioni ipnosi e simili possono avere un effetto tanto forte sugli umani e i loro corpi è completamente normale naturale per il nostro DNA il reagire al linguaggio problemi possibili nei progetti sperimentali è un discorso lungo 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 però io vi dico per questo immaginare cose buone vivere in ambienti sani frequentare persone pulite frequentare persone sane non frequentare persone tossiche non mangiare cose tossiche non dire cose tossiche anche verso noi stessi e non farci dire cose tossiche dagli altri è la migliore cura quindi se noi tutti in questo momento immaginiamo un mondo migliore che tutto andrà bene che questa politica non solo italiana di tutto il mondo verrà cancellata verrà creata un mondo nuovo una politica nuova e tutte le persone certo dice siamo macchine cristiane liquide bravissimo bravissimo in realtà noi siamo delle macchine dei computer chiamiamolo così a base carbonio siamo delle che siamo stati creati quindi siamo dei computer computer a base carbonio ok allora di conseguenza possiamo creare con queste menti collettive che ci mettiamo in connessione un mondo migliore ci dobbiamo credere dobbiamo stare uniti e immaginare il mondo migliore e non voglio più che voi divulgate cose brutte perché più voi avete paura più divulgate notizie brutte di arriverà questo arriverà quello no 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 dovete dire arriveranno cose belle arriverà un mondo migliore arriveranno cose belle il mondo andrà bene avremo cibo per tutti curo per tutti come come trovarle come trovare cosa come trovare noi dobbiamo tu devi trovare te stesso tu non puoi cambiare gli altri tu devi cambiare te stesso e devi metterti in contatto anche in questo momento noi siamo in contatto e possiamo lavorare con la nostra mente anche a distanza perché voi vi connettete in tutto il mondo no col computer e quindi perché noi non ci possiamo connettere mentalmente con le persone guardate che c'è qualcuno di voi ha visto il film Australia facevano vedere gli aborigeni che il nonno chiamava o il bambino chiamava il nonno gli aborigeni gli aborigeni sono molto forti in queste cose e lui diceva io canto a te nonno io canto a te e poi arrivava lei diceva io canto a te vuol dire che a volte se noi ci manca tanto una persona vogliamo che questa persona ci pensi vogliamo che questa persona venga da noi possiamo noi in senso cattivo in senso buono immaginare attirarla se dici io credo ma dai cosa vuol dire non ho capito sta frase ma io non ho capito perché chi ce la sta facendo puntualmente e da personaggi ambigui senza arte né parte senza profilo ti manda il tuo padrone io prego che tu apri gli occhi e ti liberi del tuo padrone ecco io prego le persone che ancora non hanno preso coscienza del loro potere che ha la sua mente io prego che tutti voi possiate prendere coscienza del potere che avete nella vostra mente io prego intensamente che tutti voi possiate aprire la vostra mente prego anche te che vieni qua a disturbare che tu possa essere illuminabile vedi che non ti ho bloccato perché voglio che ascolti prego che la tua mente sia illuminata che tu possa fare della tua vita un'opera d'arte un capolavoro perché noi non siamo nati per essere schiavi di Schwab di Bill Gates di Soros di Zuckerberg e chi ne ha più ne metta noi siamo nati per essere degli esseri superiori liberi indipendenti ma bravissimo ma il problema leggo cosa dice Adam noi già noi esseri umani siamo interconnessi allora questi pazzoidi vogliono connetterci con un chip ma sono pazzoidi noi in realtà siamo già interconnessi ma ci possiamo connettere a un'altra persona solo se tutti e due lo vogliamo questi invece ci vogliono connettere obbligatoriamente capite la differenza tra volere e essere obbligati è diverso e mi raccomando non fatevi trasportare dalla rabbia qualsiasi cosa vi succeda la cosa più tossica che vi può entrare nella vita è la rabbia non fatevi guidare dalla rabbia eliminate la rabbia eliminate le persone tossiche eliminate sapete quelle finte amiche o finti amici che vi dicono sì però sì ma dovresti ma pensa per te ma pensa a guarire te stessa pensa a farti i cavoli tuoi e se volete cambiare qualcuno cambiate voi stessi volete qualcosa di bene per gli altri pregate ma non rompeteli i coglioni posso chiedere questa piccola cosa e quindi il mio desiderio è che veramente tutti gli esseri umani si connettono ma non tramite dispositivi che volete creare voi ma spontaneamente perché hanno raggiunto un'elevatezza e una spiritualità capito caro Schwab caro Soros caro Bill Gates caro Zuckerberg che il tuo metaverso è un fallimento perché è già un progetto vecchio prima di iniziare perché tu sei vecchio anche se sei più giovane di me sei un vecchio siete vecchi dentro siete spenti per essere esseri umani che brillano dovete riaccendere la vostra anima mettetela in moto però per riaccenderla risvegliate risvegliatela con l'amore risvegliatela facendo cose belle risvegliate il vostro DNA se avete la possibilità andate ma lo potete risvegliare eliminando dalla vita tutte le cose brutte tossiche quello è già un primo passo e come si liberano le cose imparando a dire no no grazie non mi serve no grazie non mi interessa sto bene senza o con ma non ne sono schiavo quindi non essere schiavi del cibo della droga dell'alcol di qualsiasi cosa è la prima via della liberazione loro invece vi vogliono schiavi dei debiti schiavi delle cose schiavi del se non avete quello siete sfigati vi hanno fatto il lavaggio del cervello con queste pubblicità che se non siete super sexy e le tette di fuori e i denti che brillano abbiate il coraggio anche di uscire in pigiama io guardate come vado in giro con la maglia strappata perché questo poi quando voglia mi vesto anche bene ma quando voglia non sono obbligata e non sono schiava qualsiasi forma di schiavitù che facciamo contro la nostra volontà è una violenza verso noi stessi liberiamoci di ogni tipo di schiavitù e soprattutto siamo siamo amore siamo connessi nell'amore e pensiamo che andrà tutto bene io ci giuro vi giuro che se se ci crediamo tutti andrà veramente bene crediamoci tutti crediamo che questo mondo sarà cambiato sarà purificato ma anche le persone che adesso stanno facendo del male noi non le vogliamo giustiziare le vogliamo redimere e convertire all'amore capito? che tutto il mondo sia convertito all'amore io con questo finito vi ho dato le mie fonti se non ci credete andate a cercare voi su internet ripeto questo è solo un umile dialogo e vi mando un bacione e buon sabato e per gli amici ebrei shabbat shalom ciao ciao grazie a tutti grazie a tutti